Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA 15 Ultimate Team Le recensioni continuano, abbiamo visto Cross Team of the Year, sono contento che vi sia piaciuto come giocatore e come recensione Oggi torniamo un pochino sulla terra, per così dire, perché è un giocatore che possono permettersi praticamente tutti Francesco Totti, uscito nella sua versione in form dopo il derby di Roma in cui ha fatto una doppietta Molti si aspettavano, Felipe Anderson non è uscito, più che altro molti si aspettavano per le sue prestazioni continue In ogni caso, Totti, ottima carta, è uno dei miei giocatori preferiti su foot Iniziamo con le statistiche, cominciando come sempre a velocità Velocità che, possiamo vederla, non è un valore eccezionale 41 sulla carta che si traduce in un 49 di accelerazione e 35 di velocità massima Notare che comunque, quando è in campo, sembra leggermente più veloce Si nota non solo in Totti, ma in tutti questi giocatori qui, magari sul 1,80m ma non particolarmente veloci Abbiamo visto ieri Cross che sembrava più veloce Totti è un altro esempio, quindi non pensate ovviamente di farvi tutto il campo palla al piede con questo giocatore Però nel breve potete saltare qualcuno, soprattutto aiutandovi con il dribbling Aiuta molto anche l'81 di forza fisica che gli impedisce di perdere tutti i contrasti Ovviamente non è il giocatore più veloce del gioco Forse lo era un paio di anni fa su FIFA 10, era abbastanza veloce anche su FIFA 09 Ormai è passato il tempo Pazienza In ogni caso non è la sua statistica principale che è invece il tiro Il tiro è magnifico, ha 5 stelle piede debole, quindi abbiamo visto sia Cross che Totti con 5 stelle piede debole Quindi potete colpire sia di destro che di sinistro Ha un'ottima potenza di tiro con 90 Un ottimo tiro da distanza, vedete quanti gol ho fatto comunque da fuori dall'area di rigore Ha una buona precisione, generalmente quindi dà un buon effetto alla palla L'unico problema è la finalizzazione che ha 85 Che è sì un valore buono ma a volte sembra sbagliare i gol più facili Quindi mette tanti gol difficili ma a volte sbaglia dei gol veramente facili Che uno non si aspettebbe di sbagliare In ogni caso a mio parere Totti viene sicuramente promosso per quanto riguarda il tiro E anche per quanto riguarda il passaggio 88 Quindi lo possiamo utilizzare come trequartista per servire i compagni Passaggi sempre precisi Ovvio non è il top come Cross ieri che ha 97 Però 88 e 97 non si sente tantissimo la differenza Totti è generalmente preciso Ovvio magari sbaglia un lancio ogni 10 Però è completamente accettabile Discreto il dribbling ha un buon controllo palla Anzi un ottimo controllo palla con 93 L'agilità è discreta con 72 L'unico piccolo problema che non me lo fa preferire magari ad altri È le tre stelle skill Se ne avesse avute quattro Magari anche perdendo una stella di più debole Quindi 4-4 piuttosto che 5-3 sarebbe stato leggermente meglio Perché con le skill possiamo saltare e avvantaggiarci rispetto ad avversari più veloci Invece ne ha solo tre pazienza Comunque è un giocatore che rimane fenomenale Colpo di testa non un granché È in grado di segnale di testa quello sì Però non pensate che riesca a saltare sopra Chiellini Perché l'elevazione è abbastanza scarsa con 35 Il fisico abbiamo visto discreto Chiellino utilizzare con questo giocatore Ne dico solo uno Quello di base che va a aumentare un po' di tutto Poi vedremo perché in uno dei prossimi video Perché secondo me il chemistry style di base potrebbe dare una mano alla gente che è sotto quello che dite Momentum quindi quando i giocatori non si muovono alla perfezione in campo Sembrano impacciati Poi vedremo comunque in un prossimo video il motivo Dove utilizzare questo giocatore Vi posso consigliare due squadre Nella prima falso 9 che secondo me è il suo ruolo perfetto Ha meno o meno di work rates che non si sente particolarmente Non mi ha dato molto fastidio Ed è adattissimo giocare nel falso 9 Un po' come gioca nella Roma Quindi lui fa da perno in attacco Può servire nei gollano e guarin che vanno ad inserirsi A quadradi e gervinio sugli esterni Molto veloci E poi può aspettare il tiro da fuori aria Se gli avversari magari cofrono a quadradi e gervinio Può colpire quindi dalla distanza Può buttarsi dentro Perché comunque Totti ho fatto molti gol anche all'interno dell'area di rigore sugli inserimenti Dopo che hanno tagliato dentro gli esterni Quindi posizione al centro del campo e soprattutto al centro del gioco Oppure un 4-2-3-1 Questa volta con i C o C e non con gli esterni In questo caso abbiamo messo Mertens e Jovinco Molto veloci anche qui Abbiamo Iguain davanti a finalizzare l'azione Totti qui è più nel ruolo di assist man E secondariamente quello di realizzatore Perché comunque Iguain è uno che segna parecchio Totti lo può servire facilmente in profondità e segnare Mentre nella prima squadra Totti era più finalizzatore Perché nella prima squadra dove l'ho utilizzato io molto spesso 10 partite, 13 gol non sono affatto male per un giocatore Che costa 15k perché in conclusione possiamo dire che la velocità è accettabile Il tiro è fantastico perché davvero 5 stelle più le debole, ottima potenza di tiro Dribbling buono nonostante abbia solo 3 stelle skill E i passaggi sono sempre precisi Il Warcret non si sente con medio medio E soprattutto qual è un suo punto di forza Che costa al momento solo 14.000 crediti Quindi potete tranquillamente prenderlo Questa sera usciranno gli attaccanti del Team of the Year Quindi potrebbe scendere ancora qualcosina Se lo avete la possibilità prendetelo Non sarà il giocatore più forte di foot Quindi non è forte come un Team of the Year Però è estremamente divertente da utilizzare come giocatore Perché non è un place abuser Dovete avere un po' di abilità vostra Ma davvero soddisfacente da utilizzare Ed è anche molto forte Quindi si becca un 9 meritatissimo Quindi con oggi abbiamo concluso Se il video vi è piaciuto lasciate un like Un commento, iscrivetevi al canale Noi ci rivedremo presto Ciao a tutti